buon pomeriggio a tutti ragazzi con questo video parleremo ancora sempre l'episodio di banana cong episodio 2 contenti così lo completiamo tutto anche se un gioco di una nuova serie ho scordato a mettere nel titolo nuova serie scusate ma lo metterò nel secondo episodio ok buona visione ecco ragazzi lo vedete da sopra c'è scritto banana cong non è un adesivo e quando registro no 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 i piranha non mancano non 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.